La Juventus La Juventus Un ragazzo umile e forte della sua fede, quella fede che l'ha salvato nel periodo più difficile della sua carriera, quando il rettangolo di gioco sembrava dargli solo delusioni. Poi l'illuminazione, il ritorno alla Juve, due campionati strepitosi e una maglia azzurra che sembra ormai sempre più vicina. Anche il sindaco di Putignano, l'avvocato Gian Vincenzo Angelin De Micolis, nonostante il suo dichiarato disamore per il calcio, è rimasto molto colpito dalla semplicità e umiltà del calciatore pugliese, che si presta le domande dei suoi piccoli fan con grande simpatia e disponibilità. Un campione che spiega ai più piccoli come il talento da solo non possa bastare per realizzare i propri sogni. Ci vuole tanto lavoro e molto molto sacrificio, un pizzico di fortuna che non basta mai, e poi l'orgoglio e la fierezza di non dimenticare mai le proprie origini. E questo Nicolai Grottaglie non l'ha mai dimenticato. Grazie a tutti.